Salve a tutti ragazzi, allora diamo il benvenuto a Correa, finalmente dopo un'estate di tiro in molla con la Lazio si riesce a sbloccare questa operazione e non ci resta ora a vedere dove Simone Inzaghi lo vorrà mettere, l'ho voluto a tutti i costi, adesso ci farà vedere nelle prossime partite come verrà messo in campo, visto che comunque io ho sollevato alcune perplessità dovute appunto al posizionamento in campo visto che abbiamo comunque Lautaro che hanno delle caratteristiche simili insomma, Correa magari ha più il dribbling dentro l'aria che forse ci manca, però insomma vedremo, rimane sempre il rebus dell'attaccante di peso insomma perché Zeko abbiamo visto quanto è forte Zeko però ha una certa età quindi non credo che possa garantire un tot di partite anche avendo diverse competizioni, quindi la punta di peso secondo me quando non ci sarà Zeko ne potremmo risentire che cosa abbiamo aspettato fino ad adesso? Insomma abbiamo aspettato che Pinamonti si liberasse e quindi aspetteremo che anche Sanchez si liberi ma non credo comunque in pochi giorni lui decida di rescindere con l'Inter anche perché è un contratto da 6 milioni e mezzo, credo per altri due anni quindi sarà difficile che lui trovi un'altra squadra che in pochi giorni gli possa garantire quello stipendio almeno che lui non decida di diminuirsi in maniera considerevole il suo ingaggio insomma quindi fino a quando Sanchez non esce non può entrare un'altra punta l'altra punta è che a quanto pare dovrebbe essere Scamac perché abbiamo una trattativa che a quanto pare quel giocatore sembrerebbe già essere presa e quindi è un'operazione favorevole perché a quanto pare si parla di prestito con diritto di riscatto però ripeto fino a quando Sanchez non si libera non faremo altre operazioni quindi al momento il calciomercato, il mercato in entrata sembrerebbe chiuso dice cosa ne penso di Correa? ragazzi io ho chiesto un po' in giro ad amici laziali visto che comunque loro guardano le partite decisamente meglio con più attenzione rispetto a come le guarderemo noi mi hanno detto tutti la stessa cosa insomma che molti mi hanno risposto che è un mezzo giocatore perché fa dieci partite sotto tono, due buone, una buonissima quindi nessuno mette in dubbio le sue qualità però sta tutto nella testa, nella convinzione del giocatore, negli stimoli, negli obiettivi che ogni giocatore si pone magari all'Inter essendo un contesto più ambizioso potrebbe dare ancora meglio quindi speriamo che Correa possa sbugiardare tutti i tifosi laziali che lo definiscono un mezzo giocatore e che sono contenti della sua partenza insomma che li possa smentire con un certo senso poi niente ragazzi sono andato a vedere un paio di statistiche sapete che a me piacciono insomma anche per definire meglio il calciatore ha fatto l'anno scorso se non erro otto gol e tre assist un po' pochini per essere comunque un attaccante speriamo che insomma possa essere più prolifico poi volevo dire volevo dare un commento insomma all'ultima partita del Milan che l'ho vista soprattutto per motivi fantacalcistici devo essere sincero ma ho visto un Milan che c'è una squadra un po' di merda non me ne vogliono i cugini milanisti però devo dire che in attacco sono messi abbastanza male Giru che prometteva bene in realtà non è riuscito a prendere un pallone neanche per sbaglio Leao ripeto ce l'ho avuto anche l'anno scorso il fantacalcio quindi lo conosco bene è un giocatore, un mezzo giocatore che ha delle grandi potenzialità ma fa i primi 20 minuti e poi scompare letteralmente dal campo Rebic che non riesco a capire secondo me è uno degli unici giocatori di qualità che hanno lì davanti se ostinano a metterlo esterno sinistro d'attacco e non ne punta io l'avrei messo al posto di Giru che veramente era inguardabile poi sale me che sa beh di che stiamo parlando c'è giocatori che boh non segnano neanche per sbaglio cioè non mi sembrano quei giocatori insomma da Milan che possono fare la differenza il centrocampo poi senza Giallanoglu e senza che sia hanno perso no tantissimo di più a mio so parere è uno dei centrocampi più brutti della Serie A a partire da Tonali che a me non è mai piaciuto e sono contento che non sia venuto all'Inter soprattutto a quel prezzo un giocatore che ha fatto zero gol e forse neanche un assist l'anno scorso e adesso gli danno addirittura l'esponsabilità di batteri calci d'angolo e le punizioni insomma ragazzi vedremo a quanto pare che sì non vuole rinnovare quindi se dovesse andare a zero che sì insomma la vedo assolutamente nera poi chi hanno il centrocampo? Grunic mi pare che si chiami l'altro chi è? Ben Serre mamma mia ragazzi cioè sono messi veramente male e invece in difesa devo dire che hanno una discreta difesa con Tomori e Kier Terrandez ebbene stiamo qui a parlare nonostante comunque sia abbia fatto una partita bruttissima perché credo che abbia preso 4 e mezzo addirittura e poi l'altro chi è? Calabria Calabria secondo me invece è molto sottovalutato è un buon giocatore devo dire soprattutto quando ci sono le partite che contano mette sempre il timbro insomma fa qualche golletto fa gli assist si propone sempre quindi è un buon giocatore però nel complesso devo dire una squadra insufficiente non credo che quest'anno possa dare particolari problemi ragazzi quindi non me ne vogliono i tifosi del Milano ma hanno una squadra attualmente che a me non piace completamente va bene ragazzi detto questo insomma sono curioso di vedere adesso Correa in opera vedo l'ora che arrivi la prossima partita per vederlo sicuramente partirà dalla panchina e io credo che comunque per gran parte della stagione l'attacco titolare sarà Lautaro Zegu quindi staremo a vedere insomma che cosa Simone Inzaghi ha in mente di fare a questo punto se non riusciremo a fare un altro attaccante credo che Satiano dovrà necessariamente rimanere voi cosa ne pensate ragazzi? fatemi sapere iscrivetevi che ancora siamo pochissimi mi piacerebbe insomma che riuscissimo a iscriverci in tanti per creare una sorta di community tutta nostra dove poter parlare della nostra internet se vi piacciono i miei contenuti ovviamente va bene ragazzi alla prossima ciao